sarà scattolo a livigno meglio alla passo della poscagna un raduno veramente in quota infatti qui la quota si fa sentire si dorme in alto per scendere un po più in basso per allenarsi sarà buongiorno come stai buongiorno tutto bene grazie come sta andando questo raduno con le grandi ma molto bene mi diverto e sto imparando molto è bello una tanta intensità è vero che in quota si predilige magari non un lavoro basato sull'intensità però insomma la stagione sta entrando quasi nel vivo anche per ciò che riguarda quella estiva carichi pesanti oppure riesce a sopportare sopportarli al meglio sarà ma all'inizio ho fatto un po fatica poi invece adesso ho preso un po il ritmo e la sto gestendo abbastanza bene com'è allenarsi assieme ad una lisa vittozzi un esempio credo da che vi svegliate al mattino fino a quando andate a dormire per per la mentalità di una professionista di questo calibro no è molto bello anche perché fin da piccola l'ho vista da allenarsi alla camarena e l'ho sempre presa come uno stimolo per migliorare e anche comunque allenarsi con lei è veramente è veramente bello e poi poterla appunto vivere da vicino che cosa sta imparando che cosa ti ha lasciato magari impressionata su questa lisa vittozzi ma mi piace molto com'è di persona il suo modo di allenarsi è il fatto che è determinata precisa e insomma si è una campionessa a 360 gradi hai modificato qualche cosa sulla sua carabina quest'anno questa stagione sì e devo cambiare calciolo che sono da oberoff per farlo e la canna che cosa invece ti aspetti per questa stagione sia estiva per i prossimi raduni poi anche per l'inverno ma di crescere a piccoli passi non mi sono messa obiettivi tanto grandi ma di migliorare giorno per giorno step traguardo principale obiettivo principale naturalmente il circuito di ibk lo scorso anno ha già avuto modo di parteciparvi come ti ha sembrato molto bello molto duro però stimolante dai ti lascio avrete sicuramente anche massaggi da fare perché i muscoli chiamano e ci si vede prossimamente grazie davvero grazie mille grazie grazie mille grazie mille grazie a tutti